Zona bianca però resta la mascherina, l'obbligo della mascherina anche all'aperto in Campania, voi cosa ne pensate? Penso che all'aperto si poteva anche risparmiare la mascherina, più nelle parti interne bisogna tenere la mascherina che c'è più contatto, l'esterno non penso proprio. All'esterno penso che non ce n'è bisogno, però siccome sono persone che decidono per noi, dobbiamo fare quello che dicono. Meglio tenere ancora, è importante tenere ancora perché non si sa, non c'è segno per dire questo è Covid, questo è il virus, non si sa, allora dobbiamo stare molto attenti. Io penso che sia utile portarla sempre, perché i contagi ho sentito che stanno aumentando, specialmente quelli inerenti alla variante Delta indiana. Io consiglio, per me la porterò sempre anche in estate, anche all'aperto, anche all'aperto, sì. E come voler fermare le mosche con una rete, una rete a larghe maglie, ovviamente le opinioni possono essere diverse, e ogni opinione ha le sue motivazioni, però veramente sembra assurdo fermare all'aperto il virus con la mascherina, sono i comportamenti quelli che contano, i comportamenti educati nel rispetto degli altri e della propria persona. La mascherina all'aperto a 40 gradi, se è da soli, si può togliere, però questa è la mia idea. Purtroppo non siamo ancora sicuri di quello che può succedere, quindi conviene indossarlo. Anche all'aperto, signora, a 40 gradi? Ma a 40 o 50, se ci vuole, ci vuole. Grazie mille. Per il momento non siamo ancora sicuri di che succede. Anche all'aperto sarebbe abbrigatore. Già si vede che lei non è d'accordo. Esatto, esatto. Non è d'accordo perché... Ci dovremmo riformare un po' anche le altre regioni.